La piastra FP classica costituisce la tradizione della nostra attività. Abbiamo iniziato infatti 20 anni fa con questo modello e tutt'oggi si rivela una soluzione importante per la sostituzione dei caloriferi esistenti. Si può fare infatti di tutti gli interassi, di tutte le altezze e larghezze a scelta del cliente. Inoltre sono disponibili tinte della tabella RAL. Grazie a tutti.